ciao da laura avete acquistato una macchina per il caffè espresso e volete utilizzarla al meglio beh la cosa migliore è acquistare tutti gli accessori per le macchine da caffè necessari in questa categoria è possibile trovare varie soluzioni per la manutenzione della macchina e tutto il necessario per potersi gustare un buon caffè direttamente da casa oggi vi andrò ad elencare le due principali categorie di accessori per la macchina da caffè che potete trovare sul nostro sito cominciamo numero 1 manutenzione la macchina da caffè necessita della giusta manutenzione per poter funzionare al meglio il problema principale è legato al fenomeno dei depositi di calcare che si formano nei tubi all'interno della macchina o direttamente nel serbatoio che contiene l'acqua per far fronte a questo problema potete adottare diverse soluzioni tra le sostanze più comuni che potete utilizzare per la pulizia della macchina abbiamo il liquido e le pastiglie dei calcificanti molte macchinette del caffè hanno dei filtri anticalcare che devono essere sostituiti saltuariamente questi filtri rendono l'acqua più pura ancora prima che quest'ultima si riscaldi e che passi nelle varie tubazioni evitando a priori la formazione di calcare numero 2 macinazione le macchine possono macinare il caffè o attraverso delle lame o tramite un sistema di macinatura interna nel primo caso si tratta di una soluzione conveniente funzionale che garantisce una buona macinatura l'unico inconveniente è che le lame girando scaldano i chicchi che perdono leggermente il proprio aroma originale la seconda soluzione lasci inalterate le caratteristiche del chicco garantendo la macinatura ottimale tuttavia si tratta di macchine più complesse e quindi più onerose a volte bisogna sostituire le lame del sistema di macinatura o anche dei pezzi interni questo è tutto potete trovare tutti gli accessori per le macchine da caffè su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione se il video vi è stato utile mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale e lasciateci un commento ciao alla prossima